Ciao, io mi chiamo Francesca Amato. Ciao, io mi chiamo Marca Arlozi. Io mi occupo di archeometria. Io mi occupo di nanoparticelle. Cosa? L'archometria letteralmente significa misura di ciò che è antico. Si tratta di uno studio scientifico che, attraverso analisi di laboratorio, cerca di ricostruire la vita dei manufatti antichi, cerca di ricostruire la provenienza, la tecnologia di lavorazione. E cerchiamo inoltre di progettare, attraverso gli studi, un idoneo intermetto conservativo. Io mi occupo della sintesi di nanoparticelle, la realtà solida più piccola presente in natura. Una nanoparticella è appunto una particella di materia con dimensioni dell'ordine di un miliardesimo di metro. Possono essere di diversi materiali, in particolare ho studiato nanoparticelle di metallinomi e nanoparticelle ossidiche. Nello specifico mi occupo di come sintetizzarle, come produrle e come fare in modo di ottenere queste particelle così piccole, di queste dimensioni e di regolarne la formazione. Grazie. Grazie.